La mia scelta di portare il mio impegno anche in politica nasce dalla voglia di cambiare il sistema politico che da anni ha reso la città ingessata, triste e confusa sotto tutti i punti di vista. Sono contenta di presentare la mia candidatura in qualità di donna, proprio perché finalmente si è data maggiore rilevanza e voce al genere femminile. E' perché credo che le donne abbiano una marcia in più, una marcia che possa essere dimostrata solo se i cittadini sceglieranno le donne per amministrare la città. A tal proposito mi piace ricordare la citazione della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, la quale diceva che in politica se si vuole qualcosa di detto devi chiedere a un uomo, se si vuole qualcosa di fatto bisogna chiedere ad una donna. Ecco perché dico a gran voce che bisogna scegliere una donna, in questo caso me, per la politica non solo del dire ma soprattutto del fare. Per questo io farò di tutto per portare alla risoluzione delle criticità che attanagliano la città come pulizia, decururbano, sicurezza e politiche giovanili. Da tre anni ho creato un gruppo su Facebook chiamato SOS Alghero, la parola agli algheresi, con circa 2300 iscritti, molto attivo, che è mirato solo all'ascolto di quelle che sono le problematiche e proprio i disagi dei cittadini. Sono stati loro iscritti al gruppo a spingermi nella decisione di farmi portavoce delle innumerevoli segnalazioni che vengono presentate all'interno del gruppo. Due anni fa ho avuto il piacere di sostenere Francesco Marinaro nella sua candidatura da esterna, quindi non da politica, non da candidata. Questa mia prima esperienza politica, oltre ad essere stata davvero bella e costruttiva e formativa, ha creato anche un gruppo di validissimi giovani chiamato Alghero Next e assieme a loro ha avuto la prova che per i giovani è davvero facile coinvolgere la gente, parlare con le persone, proprio perché noi eravamo volti nuovi, mai visti e non avevamo scheletri nell'armadio e quindi non avevano nulla di cui rimproverarci. L'amministrazione è vincente, deve dire basta all'ostruzionismo politico, a quelle menti ottuse che dicono no per il semplice gusto di bocciare delle iniziative, anche se vincenti e interessanti. Bisogna che l'amministrazione dica invece sì, abbia il coraggio di dire sì ai giovani, alle loro menti fresche, ricche di nuove idee, anche se queste contrastano con elementi che sì hanno più esperienza ma che sono comunque arrugginite. Bisogna invece dire no a coloro che prendono alla lettera il noto detto del cuccio dell'ultura, chi non mangia e non deixa mangià, perché lo sviluppo di una città è garantita solo attraverso l'incontro, non lo scontro e attraverso la collaborazione, non la rivalità. Bisogna dire sì alla correttezza a 360 gradi, non favoritismi, senza strizzare l'occhio a chi ci sta più simpatico. E questo può essere assicurato solo attraverso il rispetto di un regolamento e bisogna capire che si deve chiedere e avere solo quando aspetta di diritto. Il sindaco giusto per me deve essere innanzitutto una donna, sempre per la politica del fare, quindi una politica di sostanza. Deve essere onesto, deve sapere ascoltare tutti e deve giudicare in modo oggettivo tutte quelle situazioni che le si presenteranno davanti. Deve essere una persona non solo con cervello, ma anche con un pizzico di sensibilità, per capire i propri disagi e le situazioni di tutte le famiglie algheresi. Deve essere vicino a tutti gli imprenditori, a coloro che vogliono dare servizi per la crescita e a coloro che hanno delle ottime proposte per il miglioramento della città. Quindi dico che il sindaco deve essere una persona che rappresenti ogni singolo cittadino in modo corretto.